ragazze e ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ora tocca a voi arianna e matt ok dovremmo essere live con paper mario vediamo se va vediamo se mi dà il via paper mario ok allora paper mario de origami king un attimo soltanto ed iniziamo ok dovremmo essere tutto quasi a posto adesso metto a posto bene per la live e iniziamo a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati a un pezzo che ci serve ad andare avanti. Ci impiega un po' a caricare però ci dovremmo essere. Dobbiamo vedere Mario dove deve andare. Ah può salire dal castello, dalle mura del castello. Andiamo giù di qua se ci fa andare. Ah così siamo andati dalla parte... Alla prossima. Alla prossima. Ah è fungo. Alla prossima. Ok solo un colpo. Ah le mani, eccole qua. Ecco Toad, c'è un Toad blu. Alla prossima. Abbiamo aperto anche questa via qua. Vai giù a dirglielo. No non ci sono dentro. Mettiti la mia valigia sotto. Mettiti la mia valigia sotto. Mettiti la mia valigia sotto. Eh nonna ti devo dire. Metti sotto quello nonna. Asciuga mano mia ancora rotolato. Ok e siamo arrivati qua. No Mario stai su. Ok. 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 Dobbiamo trovare una panchina per riposarci, una panchina per riposarci perché il problema è che Mario non c'è stanco ma più che altro non c'ha più vita, ha 12 di vita o troviamo un rimedio Ho un cuore, oh gli ho preso appena Oh il bonus abbiamo preso Alla prossima Un cuppa truppa E la dobbiamo tenere la cellula adesso Allora di qua è chiuso potremmo fare prima di qua e poi salire Però ci sono i Allora di qua è chiuso potremmo fare prima di qua e poi non ci sono Allora di qua è chiuso potremmo fare prima di qua e poi Grazie a tutti. 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 Ah, eccola in alto, da dove arriva il filo. Grazie a tutti. Ah, delle scarpe di... Date un attimo. Grazie a tutti. Ok, ok, tira su ancora il livello, più che altro l'energia di Mario. Dobbiamo prenderli. Un altro ne manca uno. Un altro ne manca uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ok, abbiamo... Ok, abbiamo... Grazie a tutti. Ok, così. Ok, ne manca ancora uno. Non ce la fa. Vanus e... Ok, ce l'ha fatta. 100... 360, totale 360. Un tubo chiuso. Ah, ecco perché era dove diceva... Ok, ecco. Ok, ecco. no bisognerebbe passare dalla parte ok lassù c'è il salvataggio arriviamo fino lassù e poi salviamo non c'è nulla No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, salviamo fino a qua e ci vediamo domani con il continuo della live da qua, da dove siamo arrivati. Ciao ciao!